E sotto il sole che fulmina i cortili e le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più, noi amici del campionato motori Taranto siamo ancora qui a raccontarvi le geste eroiche dei nostri cavalieri dell'ionico pallonare e questa settimana in particolare ci occuperemo dello Sparta Taranto e della Virtus Calcio Taranto che si sfidano per babbarsi tre punti e staccarsi così dal fondo della classifica e dunque vediamo come sono schierati i due team partendo dei biancazzurri padroni di casa che si affidano ai guantoni di Cosimo Andrisani per la sorveglianza della porta. Al centro della difesa ci sono Manuel Recchia e Nicola Rateo, Francesco Nitti e Piero Cavallari esterni bassi, in cabina di regia Alessandro De Tommaso supportato da Cosimo Attollino e Pio San Marco. Sulle corsie esterne del tridente offensivo ci sono Vito Pavone e Danilo Gallo mentre al centro troviamo Alfredo Turi. Dalla parte opposta le furie rosse della Virtus schierano Marco Albano in porta, ai lati della difesa Luca Caputo ed Emanuele Cetri, al centro Benedetto Nardone e Nicolo Borgia. I tre del centrocampo sono Pasquale Pietro, Mica, Angelo Russo e Carmine Ventimiglia. Gabriele Bocconi e Cosimo Aiello voleranno sulle fasce a supporto di Nicola Battista in funzione di punta centrale e allora procediamo col racconto della gara. Calcio d'angolo per la Virtus, battuto dalla destra. Sulla respinta della difesa dello Sparta, Taranto Aiello si lancia la caccia del pallone. Osserva il piazzamento dei compagni ma davanti a sé ha un muro bianco-azzurro e allora opta per il pallonetto a servire in area Battista che colpisce al volo. La palla si stampa sul palo lasciando le furie rosse nella disperazione. Punizione in fingarda di De Tommaso battuta dal limite. Il pallone passa tra una selva di gambe mettendo in difficoltà Albano che comunque compie il miracolo. Vito Pavone lotta a centrocampo con Cetri per il possesso del pallone. Resiste poi alla carica dei centomila della Virtus per sgropare poderosamente fino a fondo campo da dove fa partire un cross al centro. Albano cica l'uscita lasciando a gallo un'occasione più unica che rara per portare in vantaggi suoi ma l'estremo della Virtus compie il secondo miracolo. C'è odore di santità nell'aria. Pallonbella di Angelo Russo direttamente in area di rigore bianca-azzurra. Lisciano tutti ma non Aiello che piazza in buca la palla del vantaggio rojo. Per l'estremo difensore avversario c'è ben poco da fare sul sinistro ben piazzato dell'esterno della Virtus. In apertura di secondo tempo un blando disimpegno dei difensori dello Sparta favorisce l'insedimento di Carmine Ventimiglia che slalomeggia fin dentro l'aria prima di scoccare un raso terra velleitario ma che la foschia rende pericolosissimo. Alessandro De Tommaso prova la soluzione balistica con questo calcio di punizione chilometrico. Il pallone si accomoda negli spogliatoi. Calcio di punizione per lo Spartataranto battuto da Danilo Gallo. Marco Albano con l'aiuto della difesa respinge la minaccia dando il via la ripartenza molto blanda delle furie rosse. Su un lungo rilancio della difesa roja Attolino liscia il rinvio lasciando alla Virtus la possibilità di continuare nell'attacco. La palla finisce così sui piedi di Pietro Mica che ha una buona possibilità ma non la sfrutta pieno fallendo raddoppio dal limite. I biancazzurri padroni di casa si affidano soprattutto ai tiri dalla lunga distanza. In questa occasione è Cosimo Attolino che tenta il colpo della tre quarti ma senza troppa fortuna. Vanno vicinissimi al raddoppio gli ospiti sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto sulla linea del fallo laterale. Fabio Notorio scaramenta un traversone in area sul quale Bocconi non ci arriva per un pugnetto di peli dalla possibile gloria alla polvere. Cosimo Attolino ci riprova questa volta direttamente su calcio di punizione. La palla è centrale per la facile respinta di Albano. Lo sbilanciamento in avanti dei biancazzurri alla disperata ricerca del pareggio favorisce le ripartenze della Virtus che approfitta dei vuoti in difesa. Ed è proprio su uno di questi che si inserisce Pietro Mica che dopo essere venuto in possesso della palla a centrocampo si porta pochi decimetri dal limite per battere il portiere avversario con un bel destro in corsa. Il pallone si deposita in fondo alla rete schiantando le residue e speranze dei giocatori dello Sparta di pervenire al pareggio. Il triplice fisco del direttore di gara infatti pone fine alla contesa che vede vittoriose le furie rosse della Virtus Calcio Tanato ed è per loro cosa buona e giusta perché gli permette di risollevarsi dal pantano della parte bassa della classifica. Di contro per i biancazzurri dello Sparta Tanato la prima sconfitta in campionato lascia la mano in bocca e la formazione ionica bloccata nella zona retrocessione. Siamo ancora alla quinta giornata ma sarà il caso di iniziare a fare tesoro degli errori commessi.